e ciao a tutti ragazzi in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere questo nuovo recupero che ho fatto in dvd e sto parlando di the ring 2 dynamic extreme ecco qua il secondo capitolo di the ring questo mi mancava e l'ho preso questa è la copertina qui abbiamo il laterale the ring 2 qui abbiamo il retro dal giappone l'originale the ring 2 di alcune immagini film la trama varie informazioni i contenuti extra eccole qua ragazzi che potete vedere giappone 1999 andiamo a vedere a film vietata ai minori di 14 anni come potete vedere andiamo a vedere l'interno qui abbiamo dynamic extreme siete pronti per nuove evoluzioni qui ci fa vedere tutte le uscite dynamic extreme e qui abbiamo il disco the ring 2 e niente ragazzi se ti piace commentarsi che da canale non sempre ci vediamo il prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti